Buoni amici! Oggi, tra i migliori top, vi presentiamo uno dei modelli di punta del produttore di apparecchiature Bosch Professional. Il modello di avvitatore a batteria Bosch è riuscito a posizionarsi come uno degli avvitatori più efficaci sul mercato, ma ne vale davvero la pena! In questo video vi mostreremo le sue principali caratteristiche, in modo che possiate decidere da soli. Nella descrizione e nel primo commento sono presenti i link per l'acquisto, dove è possibile controllare il prezzo, le caratteristiche e le offerte disponibili. Siete pronti? Eccoci! Bosch GMB-H è una multinazionale di ingegneria e tecnologia con sede in Germania. L'azienda è stata fondata nel 1886, quindi è presente sul mercato delle apparecchiature elettroniche e industriali da oltre un secolo, essendo uno dei marchi leader del mercato. Cominciamo con una caratteristica importante di questo modello. Il peso ridotto di 0,95 kg consente di lavorare senza fatica anche per lunghi periodi, di tempo. È dotato di un meccanismo a due velocità con livelli di coppia, che fornisce una trasmissione di potenza perfetta sia per l'avvitamento che per la foratura senza martello. Inoltre, una luce LED facilita il lavoro in luoghi bui. Il prodotto è dotato di una nuova tecnologia per il vostro lavoro. Il sistema Professional 12V combina un design compatto e dimensioni ridotte con un peso minimo per facilitare i lavori più difficili con utensili professionali, le batterie sono più potenti e i caricabatterie più veloci. Le batterie sono dotate di una gestione termica ottimale, che garantisce una maggiore autonomia operativa e una durata più lunga per rendere il lavoro più efficiente. Un'altra caratteristica di questo modello è il suo design pratico e compatto. Grazie alla sua struttura extra corta di soli 169 mm, questo prodotto vi garantirà una maneggevolezza ottimale, soprattutto nei lavori di forature e avvitatura sopraelevata e in luoghi stretti. Ricordate che potete trovare il prezzo, le offerte e le recensioni nei link nella descrizione e nel primo commento del video. Il prodotto odierno, oltre alla sua economicità, è dotato di una serie di accessori. Il modello Bosch viene fornito con una batteria da 2x2, 0 Ah, un set di accessori da 39 pezzi, 25 punte per avvitare, 7 punte per legno e 7 punte per metallo, oltre al caricabatterie. Come ultima caratteristica di questo prodotto, possiamo notare l'elevata sicurezza del modello. L'Electronic Cell Protection e CP di Bosch protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dalla scarica profonda. In questo modo si ottiene un prodotto forte e duraturo. Nel complesso, abbiamo qui un cacciavite molto completo, che ha una valutazione positiva da parte di oltre 20.000 utenti. Se siete amanti del fai-da-te e delle faccende domestiche, questa potrebbe essere un'ottima opzione per voi. Analizzatelo e valutatelo, potrebbe essere quello che stavate cercando. Pertanto, possiamo solo consigliarne l'acquisto dal link presente nella descrizione. Avete dubbi su alcune di queste caratteristiche? Scrivete nei commenti e risolveremo il problema il prima possibile. Grazie per essere rimasti fino alla fine. Se il video vi è piaciuto, sosteneteci con un like e ricordatevi di iscrivervi per vedere altri video dei migliori top sul mercato. Alla prossima!